Conte, ci osservi un po' sorpreso dal tuo monte, rinchiuso nel castello levi il ponte, spiando la follia di questa gente. Senti, i tempi sono cambiati negli accenti, ti giungo strane voci e ti spaventi, ma fingi che non siano verità. Passano gli anni ma tu, nei libri non ci sei più, potevi almeno ad esempio, provare a ingannare il tempo e l'età. Ma la magia non c'è più, ti prego pensaci tu, trova un rimedio che possa guarire la realtà, e già con l'elettricità. Conte, un sogno genio e scherzo della mente, sorpreso nel contempo sorprendente, contempli i mondi sopra l'orizzonte. In fin dei conti, non è importante quello che è evidente, conteso dal futuro e dal presente, in ogni età contemporaneamente. Se la magia non sei tu, nessuno ci crede più, serve un rimedio che possa restituire il sapore di ogni cosa. E la magia non c'è più, ti prego pensaci tu, trova un rimedio che possa restituire il colore di ogni cosa. Restituire il colore a ogni cosa. Colori, fulvi e sorelle, la, 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 La 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 Energia, elettricità, il conte dal monte Sanuta la gente, risponde festate Urgurabili il conte, nel presente la domanda La risposta nel futuro